I Namb Stanno arrivando Intanto vi dico che il prossimo pezzo si esibirà Tiziano Sbaragli che è anche il nuovo insegnante di canto hard rock e metal della scuola con un corso specifico per chi ha voglia di cantare generi estremi senza fare danni alle corde tocane Pronti? E' emozionato? No Allora intanto presentiamo chi canta così Funziona tutto Ok Comfortably Namb di Pink Floyd Allora Allora intanto presentiamo chi canta così Allora intanto presentiamo chi canta così Allora intanto presentiamo chi canta così Allora intanto presentiamo chi cantaansi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie.